Sì, intanto ci stiamo arrivando con la giusta condizione perché comunque anche oggi ho visto un buon impegno, buona velocità, una bella condizione di pubblico, una bella organizzazione perché diciamo che amici della mia chievole oggi abbiamo visto che sembrava una partita importante e ci apprestiamo un po' a quello che è il nostro evento che è quello di andare a Brema a giocarci nelle nostre carte, però ci stiamo preparando a questo e ragazzi vi cominciò a vedere meglio. Ma come è andata la preparazione? Perché sembrava incalando dopo la partita di Colonia, effettivamente anche lei stessa aveva fatto qualche telecazione non troppo felice della prestazione, a che punto è la squadra che ormai ci siamo? È il punto dove lo va a portare lei o siamo andati in giro? No, no, ci siamo, ci siamo perché vedendo Palombo in nazionale dopo tre giorni dopo Colonia ho visto un giocatore che sta benissimo come Cassano che ha fatto una buona gara, oggi i ragazzi hanno fatto un po' di giocatore in velocità, dove è la nostra forza e stiamo arrivando a quella che è la nostra condizione perché comunque ci sono anche le motivazioni, ci sono anche tanti piccoli fattori che determinano magari la prestazione di Colonia perché è la quarta settimana e la quarta settimana di solito si accusa un pochino un po' tutti la stanchezza. Con l'inserimento dei nazionali possiamo pensare che la squadra che abbiamo visto nel primo tempo è quella che è vero se mi metta a fronte del bene? Io ai ragazzi gli dico sempre di prepararsi tutti perché fino all'ultimo momento, all'ultimo secondo tutto può succedere sempre e bisogna che tutti si facciano a fronte, noi stiamo lavorando per che il gruppo sia tutto pronto e che i ragazzi siano a disposizione, è chiaro che poi nel momento in cui arriverà i giorni precedenti vedremo che stanno tutti bene, noi sceglieremo i migliori e chi sta bene perché bisogna scegliere chi sta bene fisicamente e chi sta bene in quel momento lì. Mi sembra che stiano piuttosto bene i due esterni, Guberti e Signori. Sì, sì, ma anche Mannini l'ho visto bene oggi, Padalino l'ho visto cresciuto da quando è arrivato, perciò sotto questo aspetto qui non sono preoccupato, anzi sono molto contento perché quando vedi una squadra che comunque sugli esterni corre e gli attaccanti cominciano ad entrare in partita con più continuità e la difesa comincia a piacermi anche la difesa. Mister, lei pensa che la partita con il Verde e il Brema, la doppia sfida, possa essere in qualche modo anche decisiva per il futuro di alcuni calciatori oppure questa è la Sampdoria che vedremo poi per tutta la stagione? Ma saprete benissimo che il mercato è più del 31, io spero che questa sia la Sampdoria per tutta la stagione e chiaramente per il protagonista, mi aspetto una grande prova contro il Verde e il Brema cioè di riuscire a superare il turno e cercare di fare un campionato all'altezza della situazione cercando anche di rispettare la Coppa Italia perché noi ci teniamo anche la Coppa Italia le competizioni sono tre, una alla volta, una partita alla volta per cercare di riuscire a fare il massimo su ogni partita. Il Presidente ci ha appena detto che Cassano ha detto che il Verde e il Brema è la sua ero di serie preferita, avrebbe scelto proprio questa per la Champions, sei d'accordo con lui? Io sono d'accordo se poi Antonio ci faccia la differenza come fa di solito, voglio dire nel senso che come tutti gli altri bisogna fare una grande prestazione, bisogna ricercare da Antonio ma dalla squadra, della Sampdoria, una prestazione superlativa perché sappiamo benissimo che se tutti andiamo forte allora la qualità dei nostri singoli viene fuori, io mi aspetto questo e stiamo lavorando per arrivarci nel modo giusto. Gli ha parlato dopo la Nazionale, chi ce l'ha detto? No, no, io gli ho fatti complimenti, ho detto sia lui a Palombo che comunque hanno fatto una buona prestazione e gli ho detto che quel ruolo lì che aveva svolto l'anno scorso e quello che ha fatto il Nazionale è questo ruolo qui, è quello che si addisce per la squadra che abbiamo noi e cercando di avere più continuità magari nelle giocate importanti perché giorno dopo giorno Antonio sta migliorando e devo dire che sta arrivando al punto giusto, al momento giusto. Mister, un uomo di calcio qual è un giudizio su questo verbagno, su questo luogo, su questa giornata? Ma ho detto prima, mi sembrava aver, cioè siamo venuti a giocare, sembrava una partita di Serie A sinceramente perché la comunità di pubblico era veramente eccezionale, gente ospitale, un bel posto, un bel posto perché è la prima volta che vengo da queste parti qui perciò faccio i complimenti agli organizzatori e tutti quelli che hanno fatto questo in modo che questa giornata venisse come una giornata di festa. Grazie, grazie.